Sequestro record di cocaina al porto di Gioia Tauro, i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria, i colleghi del ROSS e i finanzieri del comando provinciale con il supporto dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e i funzionari Europol hanno sequestrato 1176 kg di stupefacente nascoste in 144 imballi in un container refrigerato adibito al trasporto di banane. Il container proveniente dal Sud America era destinato secondo i documenti di viaggio in Germania. Si tratta di uno dei sequestri più ingenti mai effettuati sul territorio nazionale. La cocaina purissima, una volta tagliata e messa sul mercato, avrebbe fruttato ai trafficanti oltre 250 milioni di euro. Il bacino del porto di Gioia Tauro si conferma strategico nelle rotte della droga. Guardia di finanza ed agenzie delle Dogane solo negli ultimi 12 mesi hanno sequestrato oltre 2,5 tonnellate di cocaina. L'attività di cui è stata data tempestiva comunicazione alla locale direzione distrettuale antimafia diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri è stata propiziata dalla collaborazione anche internazionale tra le forze in campo, che ha confermato la centralità della piana e del porto di Gioia Tauro quale nodo di transito prioritario per i grandi traffici di cocaina, in linea con gli esiti di pregressa e indagini condotte dall'arbera dei carabinieri, in particolare le indagini decollo, solare, crimine 3, acero e ares. Ad analoghe di un IVU che conferme circa l'operatività delle principali cosche di indrangheta operanti nella piana, depongono gli esiti di importanti attività antidroga concluse dal GOA della Guardia di Finanza nei tempi recenti, quale ad esempio le operazioni Puerto Liberado, Rio de Janeiro, Puerto Connection, Vulcano e Balboa. Deve essere inoltre sottolineato il fondamentale ruolo del sistema di controllo preventivo e di analisi del rischio possene essere dalle forze presenti all'interno del porto di Gioia Tauro, bacino che rimane strategico nelle rotte dello stupefacente. Si tratta di uno dei più grossi sequestri di cocaina mai effettuati al porto di Gioia Tauro, 1176 kg che sarebbero potuti diventare oltre 4 tonnellate di cocaina dopo il taglio. Una importante operazione frutto della cooperazione fra i reparti dell'arma, a livello interagenzia con l'Agenzia delle Dogane e la Direzione Centrale dei Servizi Antidroga e a livello internazionale con il supporto di Europol. Importante il contributo della Guardia di Finanza con l'analisi del rischio che viene effettuata sulle merci in arrivo al porto di Gioia Tauro, che continua a confermarsi il punto nevragico del traffico internazionale di supefacenti di gestito dall'andrangheta.